il punto fisico funziona come no? un po' del tempo un po' del tempo che c'è scusate perchè c'è della tenda perchè ora... ... 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 Non ti accortare la picca, che importante la picca No, non è importante che questa è una piccola bionda speciale Non ti accortare la piccola bionda devi salire france devi salire contrapeso la parola davanti un po' ecco così si va sopra la parola davanti ma che ce la puoi fare vai non sapevo la terra non devo fare niente non devo andare a prenderla non passarla vai 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 oi 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 pecevillo che mi è rimasto La scatola è una scatola di un'altra scatola in un'altra scatola, un'altra scatola di un'altra scatola. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti